Vincenzo Mancuso, meglio conosciuto come Mastro Vicenzo, siamo qui per il memore di Angelo Colossimo e Sandro Spina, tu che sei stato uno dei pilastri della Garibaldina a livello L'organizzativo, ci parli di questi due amici che non ci sono più qua con noi? Mi dispiace tanto, sono stati tanti cari e tanti buoni, sono sempre stato vicino durante allenamenti, partite, tutto Questa Garibaldina oggi? È stata buonissima, bravi ragazzi, ancora c'è lo stimolo E com'è l'urlo di battaglia di Mastro Vincenzo? Forza Garibaldina, sempre, Movimento Terra 1-2 Grazie